Malaria di città e il rapporto di legambiente sui livelli di inquinamento atmosferico in molte città italiane. In Puglia la situazione peggiore è ad Andrea che ha sforato per 47 giorni il limite consentito dalla legge. Vediamo. Andrea è tra le 10 città italiane più inquinate da polveri sottili e la prima in Puglia per indice di inquinamento. E' quanto emerso dall'ultimo rapporto di legambiente Malaria di città, Cambio di passo Cercasi, che ha analizzato l'inquinamento nei capoluoghi di provincia nel 2022, ancora troppo alti e lontani dai limiti normativi più stringenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di quelli previsti dalla nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria, che entreranno in vigore dal 1 gennaio del 2030. In Puglia la situazione non appare critica come nei centri urbani del nord Italia, dove si registrano valori inquinanti nettamente superiori rispetto al resto del paese. Secondo l'analisi di legambiente sarebbero infatti solo 23 su 95, il 24% del totale, le città che non hanno superato la soglia consentita. 72 di esse quindi avrebbero sforato il limite massimo. Per quanto concerne il PM10, che identifica le particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 millesimi di millimetro, i parametri consentiti dalla legge permettono solo 35 giorni all'anno di superamento della media giornaliera di emissione. Andrea, rispetto a tutte le altre città pugliesi, ha sforato per 47 giorni il limite consentito dalla legge. Per legambiente si rende quindi necessaria una riduzione del 41% di produzione di PM10. È importante che tutte le città pugliesi diano il proprio contributo per tutelare la salute dei cittadini, introducendo politiche efficaci e integrate. Per combattere l'inquinamento in ambito urbano, legambiente propone una serie di interventi a misura di città, come il passaggio dalle ZTL, zone a traffico limitato, alle ZEDS, zone a zero emissioni, l'adozione dei LEZ, zone a basse emissione, anche per il riscaldamento, il potenziamento del trasporto pubblico e trasporto rapido di massa, lo sharing mobility, ossia l'incentivazione della mobilità elettrica condivisa, e la realizzazione di ulteriori percorsi ciclabili e ridisegnare lo spazio pubblico urbano a misura d'uomo, l'utilizzo anche del tutto elettrico in città, anche prima del 2030.